Blitz della polizia locale di Camerota in piazza San Domenico in via Previteri e in via Sirene. In piazza San Domenico gli agenti hanno scoperto che il proprietario di due appartamenti non aveva registrato regolarmente i turisti e non aveva versato l'imposta di soggiorno. Al primo piano dello stabile infatti alloggiavano 5 persone anziché 3, come riportato erroneamente nel contrattino d'affitto. Al secondo piano invece erano ospitate 8 persone, ma risultavano registrate anche qui solo in 3. In via Sirene invece vi era una struttura ricettiva che ospitava 20 bengalesi in due casette, registrati ma senza aver versato l'imposta di soggiorno. In via Previteri infine gli agenti hanno appurato che il gestore aveva registrato l'immobile sul software PayTourist, ma i versamenti dell'imposta erano irregolari e non era stata fatta mai segnalazione alla questura degli ospiti che alloggiavano. Grazie.